Dominic Broz nel 2017 è stato martoriato dai problemi tecnici, ma ora è prontissimo per affrontare una nuova sfida in FIA ERC Junior Under-27 Championship. Il pilota della CCR Czech Team sarà al via della Zores Airlines Rally con il sostegno dell'Auto Club della Repubblica Ceca. Le cose non sono però iniziate benissimo, dato che in un test d'inizio settimana la sua Peugeot 208 R2 ha accusato un problema alla trasmissione. Questo non vuole abbattere mentalmente il ragazzo ceco, che è carico per la gara del weekend, siamo contentissimi di tornare a correre in RC Junior U27 in quello che è il terzo anno in questa serie ha dichiarato Broz, che verrà affiancato da PTR Tesinski la speranza è essere veloci. Dato che abbiamo messo su esperienza. Il calendario è praticamente lo stesso del 2017, Polonia parte, per cui spero proprio di poter spingere al massimo. Lo scorso anno ci furono parecchi problemi tecnici, credo che tutto sia risolto e per questo sono molto carico. Con tutti questi nuovi piloti è difficile dire dove potremo piazzarci, sicuramente i favoriti sono quelli con le Opel Adam e Simon Wagner, ma già nelle prime PS possiamo avere dei riscontri per fare paragoni. Sp único. Spuse a cura di agosto. 分 stitch. Spuse. Spuse a cura di agosto. I mielo.